Infrastrutture, cessione del credito e innovazione. Questa la ricetta dell'economista Giuseppe Mauro, docente all'Università d'Annunzio, per rilanciare l'economia abruzzese. Il presupposto affinché ci possa essere un sistema economico volto allo sviluppo. Io credo che siano essenzialmente tre. Primo, le infrastrutture, soprattutto in una fase come questa, che è un po' stagnante, quindi le strutture possono rompere il ciclo vizioso della stagnazione in questa fase. Secondo, un sistema bancario efficiente, che significa la possibilità di incontrare la domanda di credito con l'offerta di credito. Oggi è difficile perché la domanda di credito è bassa e dal lato dell'offerta, dal lato delle banche c'è molta tensione, sia per quanto riguarda i vincoli della Banca Centrale Europea e altra ancora. Terzo elemento sono gli investimenti innovativi. Molte volte i risparmi degli abruzzesi vanno ad essere investiti in altri luoghi. Il sistema locale è crollato e in ultimo c'è bisogno di investimenti innovativi, che si chiamano start-up, si chiamano venture capital, si chiamano alleanze strategiche, modernizzazione, banda larga e così via. Se ne parlerà questa sera alle 21 a Moby Dick, il programma di approfondimento condotto da Giovanni Minicozzi in cui sarà tracciata la storia recente dell'economia abruzzese fino a fare un quadro del presente e valutare le proposte per il futuro. Una delle prime mosse in questo ambito che verrà portata avanti da questa giunta regionale sarà quella della unificazione di due enti Abruzzo Sviluppo e Fira S.p.A. per creare un'unica finanziaria regionale in grado di fare veramente quello che dovrebbe fare una finanziaria regionale. Ospiti della puntata di questa sera, oltre al professor Giuseppe Mauro, il segretario regionale di Cisla Abruzzo Molise, Leo Malandra e consiglieri regionali Guerino Testa e Giovanni Lennini. Innanzitutto noi dobbiamo salvaguardare questa presenza industriale, manifatturiera della nostra regione che da sola ci ha consentito di collocarci nelle posizioni che nonostante la grave crisi che pure si registra negli ultimi 20 anni, a fasi alterne ma comunque con una parabola discendente, ha consentito di mantenere standard di occupazione, esportazione, sviluppo industriale elevati.